Queste immagini sono offerte da FormAction School, Venosa. Ci sono state altre edizioni della festa della salsiccia e noi l'abbiamo voluta riprendere proprio per dare una visibilità al territorio e promuovere il territorio, il prodotto tipico e la convivialità. La piccola realtà sappiamo ha bisogno di tutto quello che può essere il contributo di associazioni, delle attività presenti. Da questo punto di vista l'amministrazione, ovviamente la città che lei gestisce di Montemilione può veramente, con la scusa della salsiccia, puntare ad avere quella visibilità, quell'economia, quell'occupazione che permette poi il non famoso speopolamento che purtroppo è un male comune di tutti i comuni piccoli della nostra realtà. Sicuramente sì, perché lo stare insieme, l'organizzare insieme, il lavorare insieme potrebbe essere un modo per ripartire. Un modo per ripartire proprio partendo dalla terra, la terra che ci ha donato la vita e che può ritornare a essere parte di noi, ma soltanto con lo stare insieme. Questa festa stasera è stata organizzata proprio dall'amministrazione comunale, ma dalle associazioni di volontariato e dalle attività produttive anche dei paesi limitrofi. L'unico modo per ripartire è proprio questo, stare insieme e lavorare praticamente insieme. L'ultima cosa, stare insieme può significare anche unirsi, come ha fatto lei come amministrazione, con i paesi d'intorno. Sappiamo che in particolar modo l'autunno è così prodigo di iniziative, penso alla castagna, penso al vino, all'olio nuovo, anche la salsiccia stessa. I prodotti tipici, la pettola, quelli che sono le nostre realtà, si va verso Natale, i dolci. Può essere un'idea quella di unire un po' tutti i paesi del nostro Vulture, partendo per esempio da settembre, cioè subito dopo le feste, e arrivare a Natale veramente fornendo opportunità ogni settimana, ogni fine settimana, ogni occasione buona per attirare qui i turisti e quindi ovviamente fare economia. Beh, questo che dice lei è l'ideale, sarebbe il traguardo da raggiungere. Io parlo sempre di rete, rete tra comuni che puntano sul turismo rurale. E sarebbe, come dire, l'opportunità dell'intero territorio del Vulture Melfese e dell'Alto Bradano, dall'uva di Genzano, al cardoncello di Poggiorsini, anche la vicina Puglia, alla salsiccia di Montemilone, alla castagna di Rapolla. Sarebbe un'ottima cosa, da settembre fino ad arrivare a Natale, questi appuntamenti che fanno ritrovare la gente per conoscere quei piccoli borghi che, come accennava prima lei, vivono tutti il problema dello spopolamento. L'unico modo per risorgere, per ritornare ad essere visibili e ritornare, come dire, a creare l'interesse nelle persone è questa appunto, questa rete di comuni che potrebbe, potrebbe tantissimo dare al nostro territorio. Grazie per l'attenzione che avete avuto per il nostro paese. Grazie davvero di cuore, Antonio. E grazie a te per Montemilone che fa tanto, pure essendo una piccola realtà. Grazie.